Ripartono i campionati di eccellenza e promozione, dopo una lunga sosta si ricomincia con una nuova formula, gironi allargati sia nel massimo campionato regionale che nella cadetteria. E proprio in virtù dell'inizio del campionato c'è stato il messaggio del presidente Carmine Zigarelli. Finalmente ripartono i massimi campionati, si ritorna in campo e parte una nuova stagione sportiva dopo mesi di stop, in cui dobbiamo sempre tenere alta la guardia contro un nemico subdolo e invisibile. La ripartenza è stata possibile grazie alla piena sinergia e collaborazione con tutte le società che nei momenti più complicati hanno dimostrato grande senso di responsabilità. A loro va il mio più sentito ringraziamento per l'impegno profuso, per la capacità di superare le difficoltà e per la grande passione che stanno dimostrando ogni giorno. Nella nota si legge ancora, abbiamo una nuova sfida da vincere ed è quella di rispettare tutte le norme previste per contrastare la diffusione del Covid. Anche questa partita la disputeremo insieme a tutti i club, continuando il percorso di dialogo e di confronto costante con quello spirito sportivo che è bene consapevole dell'importanza imprescindibile del gioco di squadra. Siamo al calcio d'inizio e auguro a tutti, presidenti, tecnici, dirigenti, calciatori, medici, arbitri, giornalisti, tifosi e tutti gli addetti lavori, un buon campionato di vero cuore. Sappiate che sarò sempre al vostro fianco perché oggi ancora di più i presidenti di club insieme a tutti i loro staff sono dei grandi eroi silenziosi.